Ciao amici! Una fabbrica che progetta cavalli? Un'altra che fa parrucche con capelli veri? Oppure un'altra che ti invita a bere qualcosa in mezzo a una tonnellata di rifiuti? Ecco le fabbriche più insolite del mondo! Ti piacciono le caramelle? È normale! Ma non ti sei mai chiesto come arrivassero fino alla tua bocca? Beh, vieni con noi ad immergerti nel cuore di questa fabbrica particolare. Saprai finalmente come vengono fabbricati i famosi lecca-lecca che hanno la forma a spirale multicolore. Hai persino il diritto di farti un posto in mezzo a questi impiegati. Innanzitutto controllerai lo zucchero che sta cuocendo. Quando è cotto lo farai scorrere su un tavolo da lavoro immenso, poi aspetterai che si raffreddi leggermente. Dopodiché aggiungerai dei coloranti e ripeterai la stessa operazione per ogni colore. Dopodiché ogni colore verrà inserito in una macchina rotativa che si occuperà di impastare la glassa in modo che si ammorbidisca. In seguito a ciò, riunirai tutti i colori e ne formerai un cerchio immenso, utilizzando i tuoi muscoli. Buona fortuna! Inserirai questo cerchio in un tubo rotante che si trova vicino a un camino. Quest'ultimo avrà il compito di impedire che lo zucchero si cristallizzi e si indurisca. Mentre il tuo cerchio si riscalda serenamente, raddoppierai gli sforzi perché bisognerà fare in fretta. Formerai cerchi più piccoli che passerai al tuo collega, il quale rirotolerà e formerà delle spirali, poi un altro che vincolerà un bastoncino. Il tuo lavoro si ferma qui perché altre persone daranno il cambio per confezionare lecca-lecca e conservarli. Questo lavoro è più difficile di quanto si pensi, ti richiederà destrezza e precisione. Inoltre, bisognerà sopportare il caldo ed essere soprattutto molto veloci perché quando lo zucchero si indurisce, l'operazione è destinata a fallire. Beh, hai lavorato bene per oggi? Ora meriti di riposarti. Hai appena traslocato e per congratularti tua mamma ti ha regalato un tappeto di lana. Carino, ma non è proprio di tuo gradimento. Aspetta prima di pensare di scambiarlo con un bel puff. Sappi che dietro a questo tappeto c'è tutta una storia. Vuoi sapere come è stato fabbricato? Appuntamento in una fattoria, perché per raccogliere l'anagrezza bisognerà tosare pecore. Innanzitutto inizierai con tosare un bel greggio di pecore. Quando centinaia di chili di lana verranno raccolti, ordinerai i velli in lotti, secondo la loro qualità. Li rotolerai, li piegherai in sfere, per far sì che siano trasportati verso lo stabilimento tessile che si occuperà del resto. Ora, eccoti all'interno della fabbrica. Guarda il seguito delle operazioni. Lo stabilimento trasformerà l'anagrezza pulendola dal grasso, dalla polvere e da tutte le impurità che contiene. La bagneremo, la laveremo, poi l'asciugheremo. Dopodiché verrà la fase di stricante, durante la quale si innaffierà la lana con un'emulsione trattante. Poi le fibre saranno messe sotto forma di nastro uniforme, denominato nastro cardato. Infine la lana verrà stirata, per far sì che acquisisca elasticità e regolarità. Poi verrà trasformata in filatura, o per i tessuti o per i fili di lana. Per quanto riguarda la tintura, quest'ultima può farsi in bagni di soluzione colorante, dopo il lavaggio, prima della filatura, direttamente sul filo, oppure dopo la tessitura o il lavoro a maglia delle fibre. Ora che rivedi questo tappeto, avrà più valore ai tuoi occhi. Mmm, daresti tutto per piccole cosce di rane immerse nella loro persillade. Ma sapevi come facessero per arrivare fino al tuo piatto? Spero che tu abbia lo stomaco ben ancorato. Ti spiego tutto. Innanzitutto si riposano gentilmente in bacini d'acqua enormi, aspettando che arrivi il loro turno. Quando arriva il loro momento, sono appese una ad una su una specie di appenderia, in cui ogni rana è appesa per una gamba, testa in giù. Vengono lavate vive, poi passano in un prodotto trattante. Vengono poi rimesse sulla famosa appenderia, morte questa volta, per far sì che siano spogliate della loro pelle. Vengono poi smembrate, le membra selezionate, le cosce invece, vanno in direzione del pacchetto in cui saranno impacchettate sotto vuoto per essere vendute. Una vera carneficina. Queste immagini ti hanno scioccato? È normale. Se non mi sbaglio, dopo aver visto tutto ciò, immagino che ora desideri piuttosto una pizza per cena. Immagina tu sia un parrucchiere, hai il tuo locale e ci lavori da anni. Ma vuoi emanciparti professionalmente e ti specializzi nella fabbricazione di parrucche? Ma prima ti invito a scoprire questo stabilimento particolare in Russia. Qui vengono fabbricate parrucche con capelli veri, raccolti in tutto il paese. Gli uomini, come le donne, vendono le loro chiome di capelli e lo stabilimento si occupa di comprarli al chilo. Li selezioniamo, li laviamo, li pettiniamo, li trattiamo contro gli eventuali pidocchi e altri animali. Poi, quando vengono asciugati, li tingiamo per dar loro un nuovo colore brillante. Li pettiniamo di nuovo e infine li sistemiamo in mesh per farne extension, che verranno vendute al prezzo di 250 fino a 400 euro. Molto redditizio. Ma se ti vuoi lanciare in questa attività, avrai bisogno di avere un cuore di pietra per molti motivi. Il primo è quello che la maggior parte delle donne e degli uomini vendono i loro capelli soltanto per ragioni finanziarie o a causa di malattie, cosa che fa sì che dovrai guadagnare soldi sulle spalle di povere persone. Il secondo è che questo lavoro non è molto invitante, a meno che tu faccia lavorare gente con te e che tu ti occupi soltanto di raccogliere il denaro. Detto ciò, puoi sempre fare bei tagli e pettinature nel tuo locale, cosa che in sé è un mestiere molto più che dignitoso. Cosa sceglieresti? Abbastanza denaro e un mestiere dignitoso o molto denaro è un mestiere alquanto incongruo? Passeggi serenamente per le strade di Tokyo quando incontri per caso un vecchio amico. Quest'ultimo ti invita a bere qualcosa e non esiti ad accettare, perché desideri talmente tanto che ti venga fatta visitare la città e conoscere luoghi nuovi. Allora lo segui e qualche minuto dopo ti ritrovi in quella che ti sembra essere una fabbrica, ma diversa dalle altre. Quest'ultima possiede al suo interno Gome Pit, un bar come se ne trovano ovunque, in cui ti vengono servite bibite e caffè, eccetto che hai davanti a te dei rifiuti. Da Gome Pit ti gusterai gentilmente il tuo cocktail davanti a una vetrata che dà su una fossa, in cui si accumulano tonnellate di rifiuti destinati all'incenerimento. Davanti a te avviene uno spettacolo unico, una pala meccanica che si impossessa di tonnellate di rifiuti e li lancia in contenitori. Puoi persino avere più ampie conoscenze, servendoti dei vetri che fungono da touchscreen, il quale ti offre le informazioni che desidererai conoscere. Questo bar è ovviamente effimero e, contrariamente alle aspettative, è riuscito a conquistare un ampio pubblico giapponese. Ha la missione di sensibilizzare il pubblico allo sviluppo sostenibile e ad incitare le persone a riciclare meglio. Tuttavia non sei al riparo da nausee, vedendo pannolini e altri rifiuti ripugnanti, e non ti garantisco nemmeno che finirai il tuo bicchiere. Tuttavia avrai trascorso un momento indimenticabile e unico. Chi non ha mai sognato di possedere una Ferrari, ma vuoi vedere la favolosa ditta in cui una delle auto più costose al mondo viene progettata? Seguimi, benvenuto a Maranello, in un posto unico al mondo, un complesso industriale di 250 ettari, ossia l'equivalente di 50 campi da calcio, contenente da solo tutta una città a sé. Contiene edifici ultramoderni, un viale centrale con le sue vie perpendicolari che portano i nomi di grandi campioni del mondo. A ciò si aggiungono numerose unità di montaggio con i loro eserciti di robot all'avanguardia, piste per test privati, un ristorante immenso in cui 3.000 dipendenti consumano le loro pasti ogni giorno. Le auto vengono confezionate secondo criteri rigorosi, specialmente il tempo. Ogni fase non deve superare un tempo ben definito. Dall'altra parte è una fila interminabile di macchine da cucire in cui dei dipendenti insistono a fabbricare tutto ciò che ricoprirà l'auto. Dopodiché verrà la fase di rifinitura in cui ogni auto viene completata secondo la volontà del cliente. Un cliente ricchissimo che ha deciso di regalarsi il gioiello per il prezzo di 200.000 euro, mediamente, se sceglie il modello meno costoso. Ammettiamo che tu abbia i 200.000 euro e che tu voglia procurartene una, dovrai tuttavia aspettare più di due anni per l'ordine, la progettazione e la consegna. Ti viene il capogiro a furia di vedere così tante belle auto tutte più appariscenti l'una dell'altra? È come ti capiamo. Ti piacciono i cavalli? Scommetto di sì. Chi non li ama tra l'altro? Ma sapevi che se possiedi tutto un bestiame e li commercializzi, saresti costretto a praticare l'inseminazione artificiale in modo che tu abbia il massimo di nascite e quindi il massimo di vendite? Eh no, l'inseminazione artificiale tra i cavalli non avviene esattamente come negli esseri umani. Le cose sono meno delicate. Hai voglia di sapere di cosa parlo? Ti fa grattare un po' la testa? Beh, non tarderò a risponderti. Per questo rimettiti di nuovo i tuoi stivali. Facciamo un'immersione veloce in questa fattoria fabbrica che pratica l'inseminazione artificiale nei cavalli. Se ti chiedi perché questa fattoria si dedica a questo genere di pratica, il motivo è che molto semplicemente un maschio solo non può fecondare più cavalle contemporaneamente. L'idea è quella di raccogliere il suo seme e distribuirlo, se posso utilizzare la parola, a tutte le cavalle della scuderia. Per realizzare ciò la sfortunata impiegata, che si occupa della pratica, prepara un barattolo nel quale introduce una busta di plastica, collega il tutto a un tubo enorme che riveste come un guanto, poi fa in modo che il cavallo si accoppi con un plastico, facendogli credere che si tratti di una cavalla. Dopodiché raccoglie il suo sperma nel famoso tubo. L'impiegata analizzerà successivamente la qualità del seme, per poi inserirla in più siringhe collegati a lunghi tubi molto fini, e arriva alla fase più delicata, quella in cui dovrà inserire tutto il braccio nel retto della cavalla per deporvi il seme. Un lavoro diverso da quello dell'ufficio, infatti. Ci vuole molto coraggio, perché oltre al fatto che si tratti di un'operazione sgradevole, tanto per l'animale quanto per la cavalla, l'impiegata corre un bel rischio di ricevere un calcio con lo zoccolo in faccia. Immagino che queste immagini ti abbiano alquanto disturbato. È normale, perché non capita tutti i giorni di avere l'occasione di vedere tali operazioni, ma se un giorno ti chiederanno riguardo l'inseminazione artificiale nei cavalli, saprai cosa rispondere. Allora cosa ne pensi di queste fabbriche fuori dal comune? Dicci cosa ne pensi nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti, non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!